Cittadinanza per investimento in Montenegro Principali vantaggi di ottenere la residenza in Montenegro Possibilità di vivere in Montenegro senza dover ottenere il visto Possibilità di lavorare Possibilità di acquistare terreni liberamente Competenza fiscale bassa, sia in termini societari che personali Viaggi senza visto in tutti i paesi Schengen dell'Europa Viaggio senza visto in Russia Il Montenegro ha presentato domanda di adesione all'Unione Europea e in futuro diventerà uno Stato membro a pieno titolo dell'Unione Europea Requisiti principali Non avere precedenti penali Essere stato legalmente e rimasto senza interruzione in Montenegro Per un periodo di 10 anni I candidati devono avere almeno 18 anni Avere una residenza garantita e una fonte di reddito permanente garantita in Montenegro I candidati devono essere sani di mente e salute fisica Possedere una conoscenza attiva della lingua Mont... Possedere... L'articolo 12 consente la cittadinanza immediata per gli investitori stranieri che investono 500.000 euro nel paese Ottenere il passaporto Montenegrino L'articolo 12 consente la cittadinanza immediata per gli investitori stranieri che investono 500.000 euro nel paese CitizenshipConsultant.com è il leader globale nella pianificazione della residenza e della cittadinanza Aiutiamo centinaia di individui facoltosi, famiglie, imprenditori La nostra missione è aiutare te e la tua famiglia a ottenere la libertà che meritate Per raggiungere i vostri obiettivi attraverso le molte principali transizioni della vita Offriamo il miglior servizio per garantire a tutti i nostri clienti il raggiungimento degli obiettivi esatti di residenza globale e cittadinanza Contattaci per una consulenza gratuita